Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla scomparsa di Don Lillo Di Gregorio, figura storica del clero giolese. Il sacerdote si è spento la scorsa notte e da lunedì era ricoverato in terapia intensiva. Il ricordo di chi l'ha conosciuto. Un vuoto per i parrocchiani della chiesa San Domenico Savio, un vuoto per l'intera comunità giolese. Si è spento la scorsa notte Don Lillo Di Gregorio, 87 anni, figura storica del clero locale. Le sue condizioni di salute negli ultimi giorni si erano aggravate. Era ricoverato in terapia intensiva al reparto di medicina dell'ospedale Vittorio Emanuele, a seguito di un ictus che lo aveva colpito lunedì scorso. Don Lillo Di Gregorio era a Gera dal 1982. Chi non conosceva Don Lillo lo può ricordare come il suo carattere caritativo, è un po' sempre disponibile con tutti, specialmente per gli ammalati e per i poveri. Cosa le ha dato Don Lillo? Cosa ha dato Don Lillo alla comunità? Ha dato quelle che danno tutti i sacerdoti, principalmente Don Lillo ha dato che si è trovato sempre insieme ai parrocchiani, ha cresciuto dei giovani, principalmente come il mio figlio Don Tonino Romano, Don Rocco Quattrocchi, qui presente Rosario Ciacqua, magari appartiene ad un'altra comunità, Paolo Buttiglieri, Don Raimondo Giammusso. Questo ha dato Don Lillo alla nostra comunità. È stato il padre di tutti i sacerdoti? Il padre di tutti. I funerali di Don Lillo Di Gregorio si trarranno lunedì prossimo alle 16 al Paladon Bosco, nella sua casa. Si chiude un libro per la nostra chiesa di Gela ed è proprio grazie a Don Lillo, il quale appunto si è sempre battuto per la causa dei poveri, il quale appunto si è sempre prodigato per i giovani, per le vocazioni sacerdotali e tra queste appunto ci sono anch'io. Io da quando avevo dieci anni, da quando ero così piccolo, mi ha saputo crescere, mi ha dato quello che è necessario per poter crescere da un punto di vista vocazionale e oggi sono qui sacerdote e grazie proprio a lui. E una chiesa aggrimita ha dato oggi l'ultimo saluto all'imprenditore gelese Carmelo Tuccio, 65 anni, deceduto la notte di giovedì scorso a seguito di un infarto. Carmelo Tuccio era fratello di Angelo, presidente del Gela Calcio. E in chiesa c'era la squadra al gran completo che ha voluto rendere omaggio a quello che gli stessi giocatori hanno definito un vero e proprio punto di riferimento. Un amico, un consigliere, un uomo saggio, in mite, semplicemente una grande persona che mancherà in maniera indescrivibile. Affranti dal dolore i familiari di Carmelo Tuccio, la moglie, i figli, in chiesa c'erano anche i responsabili e gli operai dell'Eurotech, società della famiglia Tuccio. E c'erano anche i tifosi del Gela Calcio. Le seguie sono state ufficiate da Monsignor Grazio all'Abbiso. Domani, in occasione della partita prevista al presti contro l'atletico Campofranco, il Gela scenderà in campo col lutto al braccio. Prima della gara sarà osservato un minuto di silenzio. E di un arresto e due denunce, il bilancio dell'attività investigativa svolta dalla polizia di Gela nelle ultime ore. In manette Giuseppe Scudera, 40 anni, dovrà scontare quattro mesi per furto aggravato. Denunciato anche un giovane di 30 anni per detenzione di arma da taglio di genere vietato. Il 5 marzo scorso, durante un controllo stradale, gli agenti hanno trovato a bordo dell'auto sulla quale viaggiava con un altro ragazzo un coltello a seramanico a scatto di 14 centimetri di genere vietato. Un 25enne, invece, è stato denunciato perché nella sua abitazione, come vediamo dalla foto, aveva installato apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Cambiamo argomento e adesso parliamo della tavola rotonda che si è svolta oggi nell'Istituto Sor Teresa Valsei di Macchitella a Gela. Il tema trattato è stato quello dell'Alleanza e della Provezia, Famiglia e Misericordia, inaugurato anche un centro di ascolto. Tra Alleanza e Provezia, Famiglia e Misericordia è il tema della tavola rotonda che si è tenuta oggi nei locali dell'Istituto Sor Teresa Valsei di Macchitella. L'iniziativa rientra nei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. ha relazionato Don Lino di Dio, missionario della Misericordia, il presidente di AGESC, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Maria Grazia Presti. Il nostro obiettivo principale è riallacciare i rapporti famiglia, scuola, genitori, bambini e scuola, insegnanti, direttrice. Proprio a tal proposito, approfittando dell'anno della misericordia della famiglia, abbiamo creato questo evento dove avremo Don Lino di Dio come relatore in quanto essendo stato eletto dal Papa e missionario della misericordia, chi meglio di lui può creare questo anello di aggancio tra famiglia, misericordia, alleanza tra le due cose. Durante l'iniziativa di oggi è stato inaugurato anche un centro d'ascolto che si propone come luogo gratuito e riservato dove poter trovare accoglienza e sostegno. Finalmente abbiamo avuto la disponibilità di alcuni professionisti che hanno dato la loro disponibilità gratuita perché l'Agesc è un'associazione che svolge il tutto a titolo gratuito dove prenderanno i dovuti provvedimenti e le dovute strade da seguire per le persone che hanno bisogno delle diverse figure che saranno gli avvocati, assistenti sociali, pedagogisti, psicologi, un po' di tutto ciò che serve al momento per i ragazzi della scuola. Ai nostri microfoni il suo Enza Boscarello, direttrice dell'istituto. Noi nella formazione delle famiglie e dei genitori vogliamo dare proprio questa impronta, questa logica del perdono, della comprensione, della misericordia, della collaborazione, della pazienza che fa della famiglia un prodigio. Il sindaco Domenico Messinese. Il mondo in cui viviamo è un mondo molto complesso dove di fatto si stanno perdendo i valori. Questi sono dei baluardi dove ancora i valori cercano di avere un senso e cercano di essere trasmessi in modo corretto, che sono quelle regole non scritte a volte che ci consentono a vivere tutti quanti sicuramente meglio e di avere quella unità che una collettività deve avere. Quindi quando ci sono delle azioni che servono a creare uno spirito comune, quando si riesce a creare finalmente un punto di coesione, il comune non è che può essere presente. La pagina politica alla Larenziana del Partito Democratico non piace la decisione assunta dalla Commissione di Garanzia Provinciale che ha dichiarato legittima l'elezione del segretario cittadino Peppe Di Cristina e va all'attacco. Immediata la replica del segretario del circolo Gela Città, Peppe Licata, che ha già provveduto ad impugnare la decisione e a chiedere agli organi regionali di intervenire. Considerata la vostra ripetuta missione replica Licata e quindi la violazione dello statuto e del regolamento delle commissioni di garanzia, atteso che non avete svolto alcuna fase istruttoria, non avete provveduto ad esaminare e deliberare entro i 30 giorni previsti dallo statuto nazionale, si ritiene nulla la vostra comunicazione, avendo già provveduto ad inviare gli atti alla Commissione regionale e a sollevare la questione a livello nazionale e avremo modo di commentare la stessa in tale sede. Appare pretestuosa, continua Licata, nonché legittima e priva di ogni fondamento statuario e regolamentare, la vostra pseudo deliberazione, atteso che anche in questo caso non avete svolto alcuna fase istruttoria, nonché alcuna audizione, alcun esame e verifica dei vigenti regolamenti elettorali e delle evidenti e persistenti violazioni democratiche poste in essere. E domani alle 10, nei locali del Teatro Eschilo, si trarrà, così come annunciato dallo stesso Licata, il congresso cittadino del Partito Democratico. Il programma prevede l'insediamento della Commissione di Presidenza, l'elezione del segretario e direttivo del PD, il dibattito congressuale ed interventi di Daniela Cardinale, deputato nazionale del PD, Luca Sanmartino, deputato regionale del Partito Democratico, e di Giuseppe Bruno, presidente dell'Assemblea regionale del PD. Un settore in ginocchio quello dell'agricoltura, dalle arance all'olio di oliva, il comparto agricolo infatti vive un momento di forte crisi con numerose aziende che hanno chiuso nel 2015. Prezzi strecciati di vendita dei prodotti agricoli per competere con i mercati esteri, con cui i produttori a fatica riescono a coprire costi sostenuti, indebitamento degli agricoltori per far fronte al pagamento delle imposte, e conseguente moltiplicazione delle iscrizioni al ruolo, questo lo scenario dell'agricoltura siciliana. A poco e nulla, secondo il Movimento dei Forconi, sinora sono serviti i piani di sviluppo rurale per il rilancio del settore, argomento che sarà approfondito e discusso nel corso di un incontro con l'assessore regionale alle risorse agricole e alimentari, Antonello Cracolici. Oggi più che mai gli agricoltori sono infatti pronti alla mobilitazione. Ormai da troppi anni vediamo che la regione siciliana con il PSR dice di rilanciare l'agricoltura, però i dati dicono che l'agricoltura nelle nostre zone e in tutta la Sicilia soffre un momento difficilissimo, non un momento difficilissimo causato ora dalla crisi, un momento difficile strutturale negli anni. PSR oggi sono serviti ben poco, tranne che a rovinare altri giovani o altre persone che si sono illusi che poteva essere la panacea dei mali. Oggi Cracolici farebbe molto più, non lo so, con molto più senso di responsabilità dovrebbe spiegare agli agricoltori come uscire dalla crisi, visto che lui fa parte di un partito, il PD, che ha votato tutti quelli che sono gli accordi con l'indescambio con Marocco, Egitto e robe varie. Io credo che dare la possibilità agli agricoltori di avere la macchina, e poi non ci sono le strade su cui poterla guidare, porta l'agricoltura a sbattere. Quello che colpisce l'agricoltura oggi intanto è il discorso burocratico, da sempre un male nel settore agricolo, poi abbiamo il problema della commercializzazione. Oggi noi siamo costretti a produrre e a vendere sotto costo, per andare dietro ai mercati tunisini, ai mercati marocchini, ai mercati egiziani, che riescono a produrre molto, ma molto, ma molto a costi inferiori di quanto produciamo noi. Perciò se bisogna stare su un mercato bisogna rincorrere quei prezzi. E le aziende falliscono, non possono competere con chi paga la manodopera un euro, due euro al giorno, con chi usa prodotti fitosanitari da noi banditi 30 anni fa e lì ancora li usano. E proprio della grave crisi che interessa il comparto agricolo se ne è parlato ieri sera ad Agora. Il rotocalco della nostra emittente è condotto da Franco Gallo. Un settore che prima dell'avvento dell'industria pesante era stato trainante per secoli per l'economia di Gela. Un settore che durante l'epopea della raffinazione petrolifera in città ha continuato a dare lavoro a tante famiglie gelesi, nonostante fosse stato letteralmente dimenticato dalla politica. Un settore che ora che l'industria ha sbaraccato potrebbe tornare a fare da volano alla ripresa di una città piegata dalla più grave crisi economica della sua storia moderna. L'agricoltura, questo settore spesso sottovalutato e non attenzionato per come merita, è stata al centro della puntata di Agora andata in onda ieri sera su Canale 10. Il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra emittente se ne è occupato con un parterre di ospiti di primissimo livello. A dibattere di agricoltura e soprattutto di come la si può e la si deve rilanciare in città sono stati i vertici dell'amministrazione comunale e quindi il sindaco Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano che detiene anche la delega assessoriare al ramo. E quindi i capigruppo consigliari del PD Vincenzo Cirignotta e del Movimento 5 Stelle Vincenzo Giudice. Ed ancora l'imprenditore agricolo Giuseppe Bevilacqua e per finire la presidente dell'associazione Demetra e Core Giorgia Cavallo associazione che sta organizzando una tre giorni di feste, sagre e convegni con tema centrale proprio l'agricoltura e le sue peculiarità locali. Il dibattito di Agora si è incentrato sia sulle leggi comunitarie che stanno portando al collasso il tessuto agricolo del milione d'Italia in particolare come l'ultimo decreto che abbattendo i dazi doganali permetterà all'olio tunisino di invadere i mercati nazionali a discapito delle produzioni nostrane sia sugli interventi che a livello comunale possono e devono essere adottati per ridare dignità e speranza ai produttori agricoli locali. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10 oppure già dalle prossime ore sui nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata come sempre con ospiti ed argomenti che riguardano Gela e Digelesi. Dopo l'accensione di due parabole ed alcune antenne del sistema satellitare americano MUOS che sorge incontrato a Ulmo a Niscemi la Commissione Consiliare Ambiente e Sanità di Gela esprime estrema preoccupazione per l'incolumità dei cittadini gelesi costretti senza la giusta informazione ad una esposizione elevata ad un campo elettromagnetico di cui poco si conosce. La Commissione presieduta da Virginia Farruggia punta l'indice contro il Sindaco perché non ha sollevato alcuna obiezione eppure rappresenta la massima autorità sanitaria avendo l'obbligo di cautelare e salvaguardare la salute dei propri concittadini ed invece a Gela continua la nota li espone senza batter ciglio al ruolo di cavie. La Commissione Consiliare Ambiente e Sanità esprime vicinanza ai misce mesi per la lunga battaglia contro il MUOS. Inserito nel programma delle attività sui 35 anni di Canale 10 Racconti di Mafia è il titolo di una serie di documentari che trattano un tema importante e delicato come la mafia che ha insanguinato le strade gelesi tra la fine degli anni 80 e gli inizi del 90. Racconti di Mafia traccia un percorso importante non solo della storia locale ma anche di quella nazionale. Durante il corso delle puntate vi sono importanti interventi di rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine e diverse testimonianze di collaboratori di giustizia. La prima puntata di Racconti di Mafia andrà in onda martedì 14 marzo prossimo alle 21 ed in streaming sul portale tg10.it E in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Due notizie in una per l'apertura di prima pagina quella sulla conclusione delle indagini da parte della Procura con la richiesta di 22 rinvii a giudizio per disastro ambientale a carico di altrettanti dirigenti dell'ENI e quella del trasferimento a Roma del procuratore capo Lucia Lotti titolare della stessa indagine. Ma non c'è solo questo in prima pagina c'è la consuetta rubrica di satira politica di Giulio Cordaro la presentazione del congresso di domani dei renziani gelesi ed il resoconto del convegno del nuovo PSI sulla riforma dell'ex provincia a firma di Filippo Guzzardi. Il primo piano è dedicato a Giovanni Iudice l'artista che crea e che pensa e che qualche volta dà fastidio ai gestori del potere. L'intervista a tutto campo è di Nello Lombardo. All'interno del giornale altri articoli e servizi di attualità e cultura firma di Lucrezia Ferro, Vanessa Ventura, Federico Efer e Marco Di Dio. Pierluigi Lanfranchi firma una recensione al libro di Gandolfo Cascio critico letterario del Corriere di Gela sulla poetica di Dante Alighieri. Nello sport i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio di eccellenza e di promozione. La pagina dei piccoli annunci economici chiude come di consueto il giornale. Da oggi in edicola. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Rimossi dopo tantissimi anni, gli alberi che si trovano in Piazza Umberto I a Gela verranno ricollocati in altre aree della città, compresa quella di Montelungo. Gli alberi negli ultimi mesi, diventati dalla discordia, lasciano definitivamente il perimetro di Piazza Umberto che dai prossimi giorni sarà ancora di più a contatto con il Sagrato della Chiesa Madre. Gli operai incaricati dal Comune sono entrati in azione già ieri sera, iniziando a rimuovere i primi alberi. A monitorare gli interventi c'era anche il professore Nuccio Mulè, responsabile locale della sezione dell'Archeoclub, fautore principale della ritorno a Piazza Umberto I senza alberi. Mulè aveva sollevato la questione riportando in una nota le motivazioni di una richiesta che si trascina da decenni. Tra tutti il fattore igienico-sanitario. A causa infatti degli uccelli che nidificano sugli alberi, il marciapiede della piazza era perennemente ricoperto di escrementi, costituendo così una vera e propria emergenza per la salute dei cittadini, senza considerare anche le bacche che cadevano dal rami e rendevano scivolosa e malodorante la strada. Fra le altre ragioni avanzate è anche quella estetica per cui gli alberi venivano a coprire il prospetto della Chiesa Madre. Inoltre le radici lunghe e profonde avrebbero potuto costituire un problema per la pavimentazione e per le fondamenta degli edifici vicini. Si intitola Fiammetta il nuovo lavoro scritto da Emanuela Abbadessa, un romanzo ambientato a fine ottocento con l'incontro tra Fiammetta, maestra dedita ai bambini e alla letteratura, e il poeta maledetto Valastro, una storia che condurrà i protagonisti in un vortice d'amore e di lettere piene di passione e desiderio. Il libro è stato presentato ieri nei locali della libreria Mondadori di Gioela. L'ispirazione per Fiammetta mi è venuta dal ritrovamento di una lirica per canto e pianoforte al Museo Belliniano di Catania, il cui testo era di un personaggio poco noto, a me del tutto ignoto, era Gisela Foglianesi. Risalì alla storia di questa donna, che era legata a due grandi personalità catanesi, una più grande dell'altra, cioè a Giovanni Verga da una parte e dall'altra al poeta Mario Rapisardi. Questa storia, la storia di Gisela, mi è stata di ispirazione, ma soltanto di ispirazione, per narrare ancora una volta una storia di passioni sbagliate e soprattutto una storia di rapporti di dominazione all'interno della coppia, che poi è il mio percorso narrativo. Lo era in capo scirocco e continua ad esserlo anche in Fiammetta. Ieri ha dialogato con l'autrice e la dirigente scolastico Sandra Scicolone. La lettura di questo romano è una lettura che si presta chiaramente all'indagine di quello che è l'animo femminile, in primis, e quelle che sono le dinamiche delle relazioni e dei rapporti di forza all'interno delle relazioni. Il tutto calato nel contesto storico determinato, a cavallo tra due ambienti, ambienti antitetici direi, l'ambiente della Toscana e della Sicilia della fine dell'Ottocento, e attraverso questi ambienti antitetici si esplora poi anche quella che è la personalità di individui che vivono le contraddizioni e le caratteristiche dei loro luoghi e dei loro tempi. E quindi ne scaturisce un incontro quantomeno esaltante e anche pericoloso ad un certo punto tra due individui, un uomo e una donna, portatori di culture, portatori di atteggiamenti e portatori anche di un sentire, il femminile e il maschile, che tendono spesso a cozzarsi. Il tutto naturalmente raccontato con una scrittura estremamente colta. E oggi alle 18, sempre nei locali della libreria, sarà presentato il libro L'Opera dei Pupi di Gabriele Cantella. Dialogherà con l'autore il giornalista Andrea Cassisi, previsto l'intervento dell'avvocato Dario Federico. E giovedì 17 marzo alle 17.30 al Liceo Classico Eschilo, organizzata dall'Uni3, preseduta da Angela Scaglione, si terrà la presentazione del libro di Salvatore Buscemi, C'erano una volta i giochi. Modelerà i lavori la giornalista Fabiola Polara, prevista tra gli altri la presenza dell'assessore comunale all'istruzione Licia Abela. E ora parliamo di calcio. Secondo impegno consecutivo in casa, domani per il Gela, la capolista Bianca Azzurra riceverà la visita dell'atletico Campofranco. Vittoria da agguantare e da dedicare a Carmelo Tuccio, lo dice il centrocampista Alessandro Bonafini. Alessandro Bonafini, dopo la bella vittoria ottenuta domenica scorsa in casa contro la Libertà, si è chiaro che il Gela non può più fallire l'obiettivo di conquistare altri punti per approdare in Serie D. Però domani c'è un impegno importante, sulla carta è un derby, arriva l'atletico Campofranco, però se il Gela gioca come sa giocare non ce n'è per nessuno. Sì, intanto noi siamo più che motivati perché in settimana abbiamo avuto la triste notizia della perdita di Carmelo Tuccio, il fratello del presidente che era vicino a noi, vicino alla società, quindi noi siamo pieni di motivazione per cercare di dedicare questa vittoria sia al presidente che soprattutto a una persona speciale come lo era Carmelo che ci teneva tanto al Gela Calcio. Voi intanto cercherete domani di vincere per dedicare la vittoria a Carmelo Tuccio, ma poi cercherete soprattutto di agguantare la Serie D perché proprio Carmelo Tuccio aveva riferito agli amici che il suo obiettivo, l'obiettivo della squadra, era quello di agguantare e quello di agguantare la Serie D. Già noi come squadra l'obiettivo nostro è quello di cercare di regalare una gioia alla città per quello che sta attraversando. A maggior ragione adesso abbiamo ancora un altro motivo in più per regalare anche questa Serie D a Carmelo che ci teneva veramente tanto. Per domani non sarà facile, non si tratta della libertà su ultima classifica, si tratta di una squadra tosta che vi ha dato filo da torcere anche all'andata e che giocherà veramente una partita della vita contro il Gela, attuale capolista. Sicuramente chi gioca contro di noi darà sempre l'anima pur di batterci. Sicuramente troveremo una squadra guerrita, in settimana ha perso il torno di recupero quindi si trova vicinissimo alla zona play-out e quindi farà di tutto per cercare di portarsi a casa dei punti. Noi affronteremo la partita come del resto affrontiamo tutte le altre noi sappiamo che da qua alla fine ci sono cinque finali e iniziando da domani per noi è una finalissima. Questa schedina, Gela, Campofranco? Io gioco sempre l'uno, perché adesso dipende solo da noi e se noi entriamo determinati come stiamo facendo nell'ultimo periodo credo che ci sarà poco da commentare. Continuano gli appuntamenti inseriti nell'ottantaduesima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domani alle 19 al Palazzo Pignatelli, Fenilia a cello duo con Alfredo Borzi al violoncello e Tania Cardillo al pianoforte. La pagina dello spettacolo è Fuocammare, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari 17.30, 19.30 e 21.30. Con la pagina dedicata al cinema noi chiudiamo l'informazione di oggi grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni ne approfittiamo in chiusura nell'augurarvi un buon weekend. Grazie a tutti